Anche noi abbiamo tentato i capitani delle squadre, il giorno del Gabriand si partiva in Valtellina e tioeva già, faceva già freddo, puoi devi fare i Gabriand, Africa, abbiamo cercato un incontro con Torriani, lì ci ha ricevuto, ci ha lasciato parlare e io ero e trovero proprio di fianco, di fianco a me, e ma allora Vincenzo dai neutralizziamo, andiamo avanti, partiamo, ma sei sicuro, ma la neve? Ma no no, il tempo è bello, il tempo è duro, lo puoi medicare, il tempo è buono, ho finito di parlare, io sono di fianco, mi metto la mano sulla spalla, mi guarda, guarda tutti, mi guarda, va, ecco, l'avete scelto voi i colori, questo è il vostro lavoro, è capito il discorso, cioè come dire, è l'ulto la bicicletta, è l'ulto la bicicletta, è l'ulto la bicicletta.